Signor Vicepresidente del Consiglio, signori Assessori, signori Consiglieri, signor Segretario Generale, signori Dirigenti, signori Dimentetti, conseguenti lo staff a supporto dei nomi delle attività di Consiglio. E' con comprensibile emozione che mi rivolgo a voi tutti per un doveroso indirizzo di loro. Ringrazio quanti hanno avuto fiducia in me e con tale convinzione. Ringrazio quanti non lo hanno fatto per logici e più che naturali motivi politici. Come i più recenti e i miei predecessori sono anch'io un uomo di parte. Sono un uomo di parte forsemente colpito dei colori che hanno sempre con l'istinto il mio impegno politico. O tuttavia pensiamo che il primo re del Presidente del Consiglio è quello del rigoroso rispetto, del principio di totale applicazione da parte dei consiglieri dei propri deliti nell'esprezzare in una democratica dialettica da opposizione e maggioranza le interrogative che sono troppe di tutti i partitori. Ai nostri concittadini, sia ai colori quali hanno consumato il diritto di voto, sia ai colori quali legittimamente si sono asseduti dal palmo che il Consiglio Comunale deve verificare in primis di dover rispondere del proprio relato a tutti i cittadini. E' anche compito nostro quello di far sì, di rendere sociale qualche cittadino piuttosto che pensa che la libertà è costituita soltanto dalla felice dei diritti e non tanto anche dai doveri e divanti da lei. Vi ringrazio per l'attenzione che mi avete pensato e ai consiglieri e alla consigliera, ma in principale modo, a cittadino la prima volta, si è in quest'Aula Consigliare, vanno i miei più sinceri aspettori a lui, vi auguro l'autotipo e la sarebbe. Grazie!